Ci siamo anche noi, anche in Sicilia le nostre scuole paritarie sospendono le lezioni online e si uniscono all'Astag della Cisme e dell'Usmi, noi siamo invisibili per questo governo e che esporremo sui siti al posto delle lezioni. In uno Stato libero la libertà della scelta educativa è un diritto e non può essere discriminazioni di aiuti tra scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria. Il governo Conte riconosca la parità scolastica e non condanne il prezioso pluralismo culturale di un Paese che oltretutto beneficia anche del lavoro di 180.000 dipendenti in 12.000 istituti cattolici paritari ma che oggi versano in una grave condizione economica. Grazie!